Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg6. In Comune a Pescara questo pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa con l'Istituto Zooprofilattico e l'ACA ed altri protagonisti della vicenda del caso Menze e della tossinfezione che ha colpito circa 200 bambini delle scuole elementari. Il Comune e l'amministrazione comunale guidata da Marco Alessandrini ha voluto fare il punto della situazione. Vediamo il servizio. Noi vorremmo sapere tutto domani, però c'è la scienza che ha bisogno di tempi tecnici e questo ci consentirà per quanto di nostra diretta competenza, per i profili civilisti che riguardano il rapporto con la società esercente e il servizio, di attuare le necessarie conseguenze. Che significa evidentemente l'idea di avere per la stagione prossima nuovi soggetti che possano gestire il servizio di menza scolastica a Pescara. Se il sindaco di Pescara è stato diplomatico nelle dichiarazioni sul gestore del servizio menza scolastica Lati, Cirfood e Bioristoro, l'assessore all'istruzione Cuzzi lo è stato molto meno dicendo apertamente che personalmente manderebbe via il gestore a calci nel sedere. Al di là degli intenti più o meno bellicosi c'è la cronaca che racconta delle analisi che continuano da parte di ASL e i ZS per scoprire la fonte del contagio dei 200 bambini finiti in ospedale dopo aver pranzato a scuola una settimana fa. In attesa delle prime certezze scientifiche parallelo prosegue il lavoro della magistratura pescarese che ha aperto un fascicolo d'indagine. Al momento sono quattro gli indagati, dirigenti e responsabili delle aziende del servizio menza accusati di lesioni colpose, delitti contro la salute pubblica, commercio di sostanze alimentari nocive e adulterazioni di sostanze alimentari. Questa mattina la magistratura ha anche disposto il sequestro dei centri cottura della scuola di via Carducci, di via Lago di Borgiano e della scuola Silone prelevando a campione anche i contenitori dell'acqua potabile e dei plessi relativi agli istituti 1, 2, 4, 5 e 8 di Pescara. Proprio nella mattinata di oggi abbiamo ricevuto una bizzarra nota di cirre in cui il soggetto voleva svolgere in propria autonomia dei campionamenti che però vanno fatti secondo i crismi e secondo le regole. Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di acqua. L'ACA con il direttore tecnico Lorenzo Livello ha voluto smentire le voci che adombrano un contagio partito dall'acqua non potabile uscita dai rubinetti. Quindi ipotesi palesata anche dal gestore delle mense che ieri ha diramato una nota stampa nella quale diceva come fosse ragionevole pensare che gli episodi epidemici dell'infezione rilevata non siano da associare ai cibi somministrati dalla società. Livello ha parlato di una concentrazione di cloro residuo di circa 0,10 mg al litro, valore che rassicura sulla totale assenza di carica batterica nell'acqua in distribuzione, ha detto. Ma il caso mense sta diventando un domino immenso. Infatti nella giunta odierna il comune di Pescara ha deciso di sospendere il bando per il servizio mense del prossimo anno pubblicato il 30 maggio. E domani ci sarà un incontro con i presidi per capire se ci sia la possibilità di far consumare a scuola pasti portati da casa dagli alunni, quelli che dovrebbero andare a scuola fino al 30 giugno. Ricordo che il servizio mense comincia ad ottobre, quindi abbiamo un lasso di tempo di circa tre mesi e più per poter affrontare la necessaria opera di chiarimento di sanificazione degli ambienti, ma anche naturalmente di preparazione per l'anno scolastico che avverrà. Restiamo su questo argomento. L'Istituto Zooprofilattico d'Abruzzo e Molise di Teramo ha ricevuto questa mattina i campioni delle feci dei bambini pescaresi intossicati dal Campylobacter. I ricercatori teramani dovranno ora accertare quale alimento sia quello che ha generato la contaminazione. Vediamo il servizio di Tanebionnici Castelli. Sono appena arrivati da Pescara all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo i campioni di feci dei bambini pescaresi, vittime della terribile gastrointerite da Campylobacter che li ha colpiti dopo aver mangiato nella mensa della loro scuola. Le risposte definitive arriveranno solo tra qualche giorno, ma i ricercatori teramani puntano principalmente la loro attenzione su alcuni alimenti sospetti, come la carne di tacchino poco cotta o le vongole presenti nel sugo di pesce. Noi andremo a fare di questi ceppi a studiare il genoma, quindi faremo il sequenziamento dell'intero genoma e questi risultati poi insieme agli studi epidemiologici, c'è un'indagine epidemiologica in corso in questo momento dove anche il nostro istituto insieme alle altre entità interessate interviene in qualità proprio di centro nazionale di referenze per l'epidemiologia e questi dati genomici verranno comparati con quelli di eventuali ceppi che andremo ad isolare dagli alimenti che sono stati prelevati e non solo, ma potremo anche poi, e lo faremo, andare a confrontare con i profili genomici di ceppi che non appartengono, diciamo, non sono stati isolati in questo contesto ma che sono stati isolati nel corso del tempo dell'ultimo mese o degli ultimi mesi a livello nazionale e che sono pervenuti al nostro laboratorio proprio come laboratorio nazionale di riferimento Campylobacter. E cosa è potuto succedere? Campylobacter può essere trasmesso con alimenti contaminati soprattutto se si tratta di carni avicole che sono quelle che hanno maggior rischio e chiaramente consumate poco cotte o crude o cross-contaminazioni che possono avvenire durante la preparazione degli alimenti tra un alimento contaminato e magari utensili che vengono poi utilizzati per il taglio, per esempio, di altri alimenti. Così come possono essere, non è detto che sia la carne di pollo perché ci sono altri alimenti che possono essere ugualmente a rischio. In generale lo è il latte crudo non pastorizzato, l'acqua ma non potabilizzata, i molluschi, possono esserlo i vegetali, quindi diciamo le fondi sono molteplici. La carne di pollo è sicuramente quella che ha una contaminazione, può avere una contaminazione maggiore. Proseguiamo adesso con il giornale, cambiamo argomento. L'associazione Nuova Pescara ha inviato alla regione e ad altri enti interessati una lettera di sollecito chiedendo di far ripartire l'iter per la realizzazione della città metropolitana con la fusione dei comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara. Sentiamo Paolo Renzetti. Ripartire con il progetto della Nuova Pescara, Florio Corneli, si è perso fin troppo tempo. Ormai è tempo per questa città di darsi una dimensione nuova, per questo territorio di darsi una dimensione nuova, di fare subito un'aggregazione dei tre comuni che è la cosa più semplice e più rapida da poter fare e poi andare pure oltre perché bisogna ricomporre in quanto, noi vediamo una volta c'era un vecchio detto nel mondo dell'economia che diceva piccolo è bello, adesso abbiamo visto che con le prime crisi piccolo chiudono. Quindi si richiede oggi aggregazioni, dimensioni, funzionalità di tipo diverso, non solo sotto l'aspetto economico ma pure sotto l'aspetto delle vocazioni, dei varienti. Voi vi rivolgete in particolare alla regione Abruzzo? C'era un impegno a fare le cose e a farle subito, c'era delle scadenze. Adesso questo processo sembra si sia un po' fermato, rallentato sicuramente, mi auguro che non si sia fermato però noi faremo delle azioni forti nei confronti della regione per dire che si sta perdendo del tempo inutile. C'è stata anche la volontà popolare che si è espressa attraverso un referendum. Noi oggi non dobbiamo più riaprire la discussione se è giusto o se è sbagliato. Questo probabilmente lo dovevamo fare prima. Oggi dobbiamo dare seguito a una volontà popolare che si è espressa a stragrande maggioranza. Adesso la cronaca, picchia la moglie davanti ai figli piccoli, divieto di avvicinamento per un 41enne dell'Aquila, gestore di un bar. Le violenze proseguivano addirittura dal 2015, non solo insulti ma anche botte in questa storia di violenza familiare che ci racconta Daniela Rosone. La squadra mobile dell'Aquila, sezione reati contro la persona, ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna maltrattata dal marito 41enne residente all'Aquila. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, Guendalina Buccella, sul richiesta del sostituto procuratore Guido Cocco. Nel corso delle indagini è emerso che il marito della vittima maltrattava la donna per futili motivi, con violenza e minacce anche in presenza dei figli, entrambi minori di 10 e 3 anni. Maltrattamenti iniziati nel 2015, quando si è palosata nei confronti della donna una gelosia morbosa ed ossessiva, sfociata con insulti verbali ma anche con minacce e percosse. L'uomo, gestore di un bar in cui ha lavorato anche la moglie, ha imposto alla donna di non indossare abiti che a suo giudizio potessero attirare l'attenzione degli altri uomini e anche degli avventori, di non truccarsi, accompagliando però questo divieto con offese gravi alla reputazione della donna. La donna era in uno stato di prostrazione psicologica e un senso di umiliazione continua. Nel corso delle indagini gli investigatori dell'Aquila hanno anche raccolto gravi indizi di compevolezza in ordine a violenze fisiche, in particolare in un'occasione il marito dapprima schiaffeggiato la moglie, poi le ha impedito anche di rientrare a casa percuotendola fino al punto di farle sbattere la schiena contro una scala di legno. L'epilogo dei maltrattamenti che ha indotto la donna a rivolgersi alla squadra mobili dell'Aquila è avvenuto il primo febbraio scorso. Dopo l'ennesima lite, sempre per fuuti dei motivi, la donna è stata aggetto di una grave violenza da parte del marito. Nel corso della lite lui l'ha spinto nata a terra e l'ha trascinata per i capelli all'interno dell'abitazione, in presenza dei figli minori. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale e restiamo sempre alla cronaca. Sarà la Cassazione a pronunciarsi sulla istanza di appello per la revoca della misura cautelare della detenzione in carcere per Andrej Ferru, 52 anni, romeno accusato di omicidio volontario per la morte di Iulana, Catalin Bucatarula, avvenuta a novembre scorso in un'abitazione di Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli. L'uomo continua a professarsi innocente e non si avvarrà del rito abbreviato, andando così a dibattimento ordinario nel prossimo autunno. Vediamo il servizio della redazione di Info Media News. La nostra posizione è stata sempre la stessa, abbiamo sostenuto, come abbiamo fatto già nel corso dell'esame, che il ferro è totalmente estranefatto e non essendo mai entrato in quella casa. Quindi al processo come ci si arriverà? Al processo è fissata la remunienza per il 19 settembre e non abbiamo, ci stiamo preparando, non abbiamo richiesto il rito abbreviato. La donna venne trovata senza vita nell'abitazione dell'anziano accusato di omicidio, dove lavorava come badante. Scattarono subito le indagini dei militari della stazione di Carsoli, venne formalizzata l'accusa di omicidio a monte del delitto, secondo l'accusa, un motivo di gelosia. Indagini concluse sul caso in questione, esploso qualche tempo fa nel Carziolano. In Cassazione si è discussa esclusivamente l'ordinanza cautelare in carcere. I carabinieri guidati dal maresciallo Umberto Massimo Cicone hanno in questo periodo raccolto varie testimonianze nella frazione di Carsoli, Colli di Monte Bove, scenario del fatto di sangue, dando luogo ai rilievi assieme al RIS congiuntamente al medico legale. Non si è trattato perciò di morte accidentale. Per ora le indagini parlano di violenze sulla donna. Dichiarato totalmente stranefatti, sostiene di essere innocente. Ma c'è forse qualche ombra in più? Abbiamo avuto una separazione abbastanza burascosa con la moglie, vi è stata una denuncia della moglie che però non è arrivata, non ha portato alcuna condanna penale. Proseguono le polemiche sul sottopasso ferroviario che dovrebbe essere costruito a San Giovanni Teatino nell'ambito del raddoppio della ferrovia previsto dal masterplan regionale. La giunta comunale guidata dal sindaco Marinucci non è d'accordo e ha inviato una lettera al ministero delle infrastrutture. È previsto un consiglio comunale straordinario con il governatore per il 21 giugno. Sentiamo. Si continua a parlare del sottopasso che dovrebbe nascere a San Giovanni Teatino, a San Buceto in particolare sindaco Marinucci. Voi non siete d'accordo, avete scritto una lettera al ministero ma avete soprattutto convocato il governatore per un consiglio comunale straordinario il 21 giugno. Sì, va precisato che il ferroviario dello Stato intende chiudere questo passaggio a livello da circa degli anni 70-80. L'amministrazione comunale che si sono precedute alla mia hanno sempre dato un parere negativo. Io ho continuato su questa strada e nel 2013 ho revocato anche una delibera che prevedeva uno studio di fattibilità, quindi solamente una consultazione tecnica che chiaramente ha rimesso a noi un progetto che abbiamo ritenuto assolutamente non attuabile. Nel frattempo non l'abbiamo revocata, quindi l'amministrazione ha deciso, perché abbiamo i numeri per poterlo fare, di non autorizzare i ferroviari dello Stato a passare sotto il nostro tracciato ferroviario. Siccome a gennaio del 2016 siamo venuti a conoscenza che il master plan dell'aeroporto prevede il raddoppio della ferrovia, abbiamo modificato il nostro piano regolatore che è uno strumento vincolante e abbiamo predisposto l'interramento del tracciato ferroviario. Oggi è nato un comitato, il comitato ci ha chiesto un'audizione e io ho ritenuto che a questa eduzione dovesse essere presente il governatore D'Alfonso, il quale ha confermato la sua presenza per il 21 giugno alle ore 18.30 nella sala del Consiglio Comunale e negli incontri precedenti a quelli avuti con la mia amministrazione il comitato ha incontrato anche le forze politiche che oggi in Consiglio Comunale sono all'opposizione ma sono al Governo Centrale, i quali con delle idee proprie pensano di poter intervenire a livello del Governo Centrale per modificare questo tracciato o addirittura eliminarlo. Noi siamo d'accordo con tutte le ipotesi, quello che rimane fermo è che la mia amministrazione comunale non vuole assolutamente che il ferroviario passi sotto la tracciata del ferroviario e quindi crei un buco al centro del Paese che si andrà ad aggiungere gli altri buchi che abbiamo dovuto subire in passato. Adesso ci spostiamo a Chieti dove questa mattina c'è stata una conferenza stampa in provincia del Presidente Mario Pupillo per fare il punto della situazione per quanto riguarda l'ex caserma bucciante. Vediamo. È stato un percorso molto difficile, articolato perché il primo progetto era insostenibile sotto l'aspetto economico e dopodiché grazie alla Regione con il master plan siamo divenuti a un costo più accessibile di circa 5 milioni e 4. Noi faremo il bando per la progettazione definitiva e esecutiva per il primo lotto che impegna una cifra di 4 milioni. La restante cifra poi verrà implementata l'anno prossimo in modo tale che si embrita il lavoro che comincia e con la rifinitura e il completamento dell'opera. Pensate, questa è una gara europea, quindi ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea, domani mattina su quella nostra italiana. Ci sono 90 più 60 giorni per la progettazione, una progettazione complessa e quindi diciamo che a novembre noi potremo fare il bando e quindi io penso che la primavera prossima si possano iniziare i lavori perché questa è una valorizzazione importante che ha visto protagonisti tanti portatori di interesse cominciando dal Presidente Legnini, dalla Comune di Chieti e dalla provincia che ha voluto sviluppare questo percorso perché la Biblioteca dei Meis deve diventare il nucleo, il cuore pulsante della cultura chietina in un luogo simbolo della città. Anche il Comitato Cittadino. A Chieti buone notizie sul fronte dei finanziamenti approvati per i grandi lavori mentre mancano quelli per l'ordinaria manutenzione. L'analisi è stata fatta dall'assessore ai lavori pubblici del Comune, Raffaele Di Felice che ascoltiamo nell'intervista realizzata da Gino Di Tizio. Questa è una situazione un po' particolare, nel senso che ci troviamo nelle condizioni di poter arrivare ad avere finanziamenti per grosse opere questo grazie a una progettualità che stiamo portando avanti ormai da quasi tre anni e non riusciamo invece ad avere quei soldi necessari per fare le manutenzioni è un fatto di contabilità, è un fatto di richiesta di finanziamenti e purtroppo la condizione è questa. Per quanto riguarda le grandi opere stiamo seguendo tre grossi canali il master plan con i fond first per quanto riguarda il collegamento chi di alta chi di bassa e quindi sia per la filovia che per la funicolare per quanto riguarda invece il SUS che sarebbe lo sviluppo urbano sostenibile già sono arrivate le anticipazioni dei soldi per l'attualizzazione di quelle che sono le innovazioni tecnologiche, i nuovi mezzi, la segnaletica, l'alta tecnologia parte del centro storico che sarà ristrutturato a partire dall'ingresso da Papa Giovanni fino ad arrivare al Corso Umberto e il terzo filone che sta partendo in questo momento in fase di progettazione di massima e poi definitiva è quella legata alle periferie l'amministrazione sta lavorando avremo altre sorprese tenete conto che il bilancio la programmazione triennale può essere modificata in qualsiasi momento il bilancio può essere adeguato se arriveranno altri soldi le comunicheremo alla città sarà nostra soddisfazione averle e comunicarle però l'emergenza sulle piccole opere, sulla manutenzione continua a rimanere ogni volta che cerco di regolarizzare una tempistica a misura d'uomo non mi riesce non mi riesce perché sono troppo in lungacce troppi meccanismi degli stati di avanzamento i soldi che devono arrivare dalla regione al ministero e quindi ci si perde molto spesso dei meandri dico solo questo faremo partire le opere entro quest'anno quali e quante non le posso dire ma partiremo entro quest'anno adesso ci occupiamo della pagina sindacale con in primo piano la Honeywell perché ieri sono partite le lettere di licenziamento attaccano i sindacati che parlano di un atteggiamento ignobile da parte della multinazionale americana sentiamo niente cassa integrazione la multinazionale ha deciso di licenziare tutti la decisione è stata formalizzata al ministero dello sviluppo economico 48 ore dopo l'ultimo incontro avuto con le organizzazioni sindacali che chiedevano di proseguire le attività fino a febbraio 2019 le lettere di licenziamento sono partite in data 6 giugno ultimo giorno di lavoro l'8 giugno 263 è il numero delle persone licenziate mentre 9 restano per lo smantellamento della fabbrica di Atessa altre 65 hanno aderito in precedenza alla procedura di mobilità lasciando lo stabilimento in queste ultime settimane una scelta ignobile maturata da un'azienda squallida perché alla Honeywell non sarebbe costato nulla temporeggiare qualche mese sappiamo lo scarso impegno che ha profuso affinché venisse approvata la cassa integrazione sul processo di reindustrializzazione tutto questo che significa? non inciderà assolutamente noi avremmo preferito avere più tempo a disposizione sarebbe stato sicuramente meglio per cui adesso aspettiamo una risposta almeno positiva per quanto riguarda la reindustrializzazione ma i tempi sono incerti e questo preoccupa non solo noi ma tutte le persone che puntano sulla reindustrializzazione parlo del 30% delle famiglie dei lavoratori Honeywell che sperano in una ripresa delle attività seppur con un'azienda diversa la Honeywell ha comunicato contestualmente al Mise di essere favorevole a proseguire sul percorso della reindustrializzazione dopo aver chiesto ai tre gruppi interessati di accelerare con la presentazione dei rispettivi piani industriali da sottoporre alla commissione giudicatrice presieduta da Invitalia le proposte progettuali riguardano il settore automotive Cambiamo argomento presentato a Pescara la notte dello shopping che si terrà nel quadrilatero del centro commerciale naturale domani vediamo il servizio È arrivata l'estate e arrivano le prime importanti manifestazioni nel centro cittadino l'8 di giugno ci sarà la notte dello shopping nel quadrilatero commerciale di Pescara La prima iniziativa dedicata al commercio di una serie di manifestazioni che abbiamo programmato per la stagione estiva un'iniziativa importante perché coincide con l'inaugurazione del centro commerciale naturale su cui abbiamo investito 100.000 euro Passiamo dalle parole ai fatti con una manifestazione che animerà tutto il centro tutte le aree pedonali compreso di Corso Vittorio Emanuele e via Nicola Fabrizi ci saranno spettacoli, musica, concerti, animazione, food e soprattutto negozi, aperture straordinarie dei negozi fino a sera E questa è la prima importante iniziativa di tante altre che poi seguiranno nel corso dell'estate soprattutto per quanto concerne il commercio Avremo tante manifestazioni dedicate al commercio ripeteremo l'iniziativa il 7 luglio in occasione dell'avvio dei saldi poi andremo avanti il 14 agosto con la grande notte dell'Adriatico e l'11 agosto con un'altra notte dello shopping dedicata al commercio la novità di quest'anno è che ognuna di queste serate sarà tematizzata quindi avrà un tema quest'anno la prima, quella di venerdì sarà dedicata allo sport in occasione dell'avvio dell'Ironman poi ci sarà quella del 7 luglio che è dedicata prettamente ai saldi e l'11 agosto avremo la notte degli anni 50 e 60 quindi davvero tante iniziative che animeranno l'estate nella nostra città e anche sabato ci sarà una bella iniziativa all'Arena del Mare con il Samsara che sarà una grande festa per i giovani a partire dalle ore 19 Restiamo sempre in tema di eventi il 16 giugno l'Aquila vivrà la sua prima notte bianca dello sport centinaia di associazioni sportive daranno vita a dimostrazioni per grandi e piccini nel centro storico Il 16 giugno l'Aquila vivrà la sua prima notte bianca dello sport un evento pensato dall'assessore allo sport Alessandro Piccinini che ha ricevuto anche il plauso del sindaco per regalare alla città dell'Aquila una grande occasione per stare insieme per divertirsi e avvicinarsi allo sport grazie alle tante associazioni che coordinate dall'SD, Vecchie Fiamme e Old Rugby daranno vita ad uno spettacolo di aggregazione unico nel suo genere centinaia di associazioni sportive che organizzeranno attività dimostrative delle proprie specialità portando bambini, giovani e genitori ad avvicinarsi al mondo dello sport e a ritrovarsi in centro storico Si diciamo che è il numero zero una sorta di prova generale della notte bianca perché ancora una volta purtroppo abbiamo incontrato problemi con i piani di sicurezza per quanto riguarda ancora la situazione dei cantieri in centro però è una manifestazione che abbiamo pensato sin dall'inizio e che abbiamo realizzato grazie all'apporto di tutto il mondo dell'associazionismo sportivo sarà una festa proprio della promozione dello sport praticato in concomitanza con l'inizio dell'apertura dell'ATP Challenge di tennis per cui sarà tutta una zona della città che vivrà un momento importantissimo di sport di musica e di divertimento e intrattenimento in generale con l'occasione abbiamo anche organizzato un concerto di Massimo Priviero che è uno dei cantanti più raffinati italiani e vanta collaborazioni importantissime con Massimo Bubbola con Mario Gazzic ed è insomma un esponente di un certo tipo di musica rock da ormai circa 30 anni per cui sarà sicuramente un evento importante per la città ripeto siamo partiti un po' in via sperimentale quest'altro anno sarà una manifestazione su cui vorremmo puntare molto dalle 17 a luna l'Aquila si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto l'evento sarà arricchito dal concerto di Massimo Priviero al Parco del Castello alle 22 anche il CONI ha voluto marchiare la manifestazione che interesserà prevalentemente la zona del castello e le aree limitrofe adesso apriamo la pagina dello sport vero e proprio il giovane difensore delle pescara Edgar Elizalde è stato convocato in nazionale under 20 uruguaiana in vista della doppia amichevole di fine mese con i pari età del Cile intanto le attenzioni restano su un mercato che tuttavia non è ancora decollato nel servizio facciamo il punto della situazione sul centrocampo biancazzurro con Andrea Costantini molti dei problemi avuti in campo dal pescara nell'ultima stagione sono derivati da alcune dispunzioni del centrocampo ecco che grande attenzione sarà dedicata nel prossimo mercato a quello che non a caso viene definito il reparto nevralgico molto dipenderà dalla permanenza o meno di Gaston Brugman anche se il capitano ha mercato ed è probabile la sua accessione a quel punto resterebbe un solo giocatore sotto contratto Mattia Proietti l'ex Bassano è legato al Delfino fino a giugno del 2021 era un pilastro designato nel centrocampo di Zeman ma il problema al ginocchio prima e quello al tendine di Achille poi lo hanno relegato ad appena sette presenze in campionato l'ultima delle quali lo scorso 10 febbraio valutazioni andranno fatte sul suo effettivo recupero e sulla sua funzionalità nel progetto tecnico di Pillon il fatto che si giochi ancora col 4-3 può essere un vantaggio Proietti potrà essere vice Brugman o vice di chi arriverà al posto dell'uruguaiano più difficile che sia lui il titolare del ruolo Valzania tornerà all'Atalanta e forse avrà qualche chance di giocarsela con il gruppo di Gasperini Coulibaly farà ritorno all'Udinese e l'entourage bianconero vorrà prima valutarlo in ritiro e successivamente prendere decisioni sul futuro del giocatore senegalese anche Marco Carraro rientra alla base l'Inter ha delle offerte sul piatto visto che il calciatore ha attratto l'attenzione di diversi club anche di Serie A e allora tra le possibili conferme vi è quella di Andrea Palazzi praticamente certo il rinnovo del prestito da parte dell'Inter l'ex Provercelli ha giocato nove partite in campionato col del Delfino prima del grave infortunio occorso alla Spezia ed ora in riva l'Adriatico punta ad una stagione di rilancio la dirigenza del Pescara è al lavoro anche per trattenere José Macin e anche in questo caso si tratterebbe di un rinnovo del prestito fatto dalla Roma il Pescara giudica troppo alto il milione e mezzo di euro per esercitare il diritto di riscatto per l'acquisizione definitiva del cartellino i nomi nuovi per il reparto sono Ledyan Memuschai, Marcel Buchel e Luca Ricci i primi due nuovi in toto non sono Memuschai del Pescara è stato capitato fino allo scorso agosto quando è stato ceduto al Benevento il centrocampista albanese tornerebbe volentieri in riva l'Adriatico la sua esperienza in terra sannita non è stata affatto positiva il giocatore ha altri due anni di contratto con gli stregoni e bisogna trovare la formula adatta per il suo ritorno Buchel già in passato è stato accostato al Pescara ha appena chiuso la stagione in prestito col Verona ed ha un altro anno di contratto con l'Empoli appena promosso in A difficile che i toscani ci puntino e allora il DS Leone potrebbe portarlo a Pescara senza grossi sacrifici economici Luca Ricci è un giovane classe 99 che quest'anno si è messo in luce con il Gubbio in Serie C 24 presenze tra campionato e Coppa il Pescara è interessato può acquistarlo o riceverlo in prestito da uno dei club di Serie A che hanno messo gli occhi sul centrocampista centrale Umbro Scendiamo di categoria andiamo in Serie C in casa del Teramo prima di iniziare la campagna acquisti si deve cercare di vendere si devono dunque trovare degli acquirenti per alcuni dei nove elementi che hanno un contratto anche per la prossima stagione un obiettivo non certo semplice ma imprescindibile per garantire la stabilità finanziaria del club sentiamo Jacopo Forcella prima le cessioni poi gli acquisti per un Teramo che adesso con la scelta di Giovanni Zichella è pronto ad operare per ristrutturare la rosa di un diavolo che al primo luglio potrà contare su nove tesserati che poi sono quegli elementi che hanno in essere un contratto con la società Biancorossa partendo dalla porta a Michal Lewandowski potrebbe essere concesso un'opportunità di dimostrare il proprio valore l'estremo difensore polacco infatti proprio sotto la guida di Antonio Asta a fine 2017 aveva iniziato a trovare maggiore spazio Zichella che di quello staff faceva parte potrebbe puntare su un ragazzo giovane che nell'esperienza da Vezzano aveva fatto vedere ottimi numeri poi il prestito a Monopoli da gennaio e adesso al netto di scelte diverse la possibilità di ritagliarsi un ruolo determinante in difesa sono in tre sotto contratto il capitano Speranza scadenza 2020 è dei tre quello che ha maggiori probabilità di rimanere poi Caidi che invece nelle intenzioni della società è un sacrificabile sull'altare dei conti ma c'è da trovare un acquirente per un difensore di altissima levatura in C e con un ingaggio importante l'altro difensore, il terzo, è Mattia Altobelli che rientra dal prestito alla Siracusa ma che i siciliani vorrebbero avere nuovamente con loro dopo la buona esperienza in maglia a Retusea si passa poi alla zona mediana del campo per Avadio più o meno lo stesso discorso fatto per Caidi elemento di spessore assoluto ma che per questioni di bilancio potrebbe essere lasciato partire a patto che si trovi una squadra che si accolli anche solo una parte dell'ingaggio del centrocampista è chiaro che Zichella, così come la società terrebbero sia lui che Caidi ma i conti in questo momento sono sacri e se non si palesa un socio che voglia aiutare Campitelli il budget a disposizione rimane abbastanza risicato per De Grazi invece discorso rimandato al 2019 quando scadrà il prestito biennale con Lascoli che è comunque un diritto di recompra della numero 4 in questa estate e nella prossima la salvezza dei bianconeri in Serie B rende De Grazia però meno appetibile per i marchigiani che potrebbero non volere esercitare il diritto di riportarlo al del Duca lasciandolo ancora a Teramo come da accordi davanti invece per Bacio Terracino e Fratangelo non ci saranno discussioni per motivazioni differenti sono due calciatori che il Teramo si terrà stretti il capo cannoniere della passata stagione ha trascinato il diavolo nei momenti più difficili dopo un avvio nel quale aveva trovato poco spazio ma Bacio Terracino sarà imprescindibile anche nell'annata che verrà Fratangelo invece deve fare l'assalto di qualità che tutti si aspettano grandi potenzialità condite quest'anno anche da due reti in campionato ma l'esplosione ancora non c'è stata e a Teramo lo attendono come la centravanti del futuro insieme a Fagioli infine il nono sotto contratto è Riccardo Barbuti che dopo la retrocessione del Gavorrano in Serie D è tornato in bianco rosso per lui discorso diverso da tutti gli altri non fa parte del progetto tecnico del Teramo che vuole trovare una squadra per l'ex Lumezzane anche perché nella stagione entrante Barbuti complice lo stipendio che aveva spalmato percepirà un ingaggio molto elevato che il diavolo non può permettersi dunque il lavoro per il direttore sportivo Sandro Federico sarà tanto a partire già da queste ore in cui sta visionando dei prospetti nelle finali primavera ma prima di procedere agli arrivi Campitelli pretende una cura dimagrante nei conti solo poi comincerà la costruzione del Teramo che verrà è tutto anche per questa edizione del TG6 io vi ricordo questa sera alle 20 quindi tra poco l'appuntamento con l'appello del candidato l'ultimo di questa serie di trasmissioni dedicata ai sette candidati a sindaco per quanto riguarda la città di Teramo ospite di questa sera Paola Cardelli mentre alle 21 a seguire c'è l'appuntamento tradizionale del giovedì con Velo la trasmissione condotta da Jacopo Forcella e curata dal patron Luciano Rabbottini per approfondire tutti i temi che riguardano la bicicletta è davvero tutto grazie per essere stati con noi buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti